Io voglio, sono venuta qua per mangiare il gelato del golosone a 3.000 metri, il rifugio Mezzalama. Quella lì è quella che mangia sempre il gelato del golosone, e si vede? Non è vero? Con dietro il gioiello del... Si vede? Girati tu! Spettacolo! Che bello che sei! Un po' di doppio mento. Meglio! Ci dica! Lei? Cosa ci dice lei? Roby? Siamo riusciti ad arrivare fin qua su finalmente. Siamo arrivati ultimi? Siamo arrivati ultimi. Gianni, prego? Si, si. Si giri? Ah, spettacolo! Eh? Non spettacolo! No, c'è un po' di me. No, hai chissuto la vedete... No, non te lo dico... Vedete dici e entri? No, ragazzi... Sì, allora pure fuggi in te... No, no... Non è chissuto il goloso. Sì, c'è un golo. Via! Grazie! Ciao, ma dove c'è? Ciao! Oh, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! sei venuta in costume, spettacolo stiamo parlando di panza come no, non l'hai visto? mi hai fuso da aerobica guarda questa stasera mi hanno preso per il culo i tuoi due bambini perché dicevano che quando facevano aerobica quali bambini? quel bambino lì? ne ho due adesso uno e l'altra te la do perché non la...